Il risultato è sempre la parte più importante, però avevamo voglia di rifarci, di mettere in campo tutte le nostre ugualità, avevamo preparato la partita soprattutto sotto l'aspetto mentale, credo che sia stata una vittoria meritata, la cosa di cui sono contento è che la squadra ha reagito bene sotto tutti i punti di vista, la cosa che dobbiamo migliorare è la capacità di gestire la partita soprattutto in quel momento. Bucco D'Amico, tuttocavese.com, dice mister vittoria fondamentale, nel primo tempo è mancata solo la rete, nel secondo tempo però meravigliamente in vantaggio, quanto è arrabbiato per gli ultimi 10-15 minuti di gara? Abbastanza, perché non possiamo, per la squadra che siamo e per quello che facciamo durante le partite, riaprire una partita messa sui binari giusti, però anche questo cercheremo di migliorarlo, cercheremo di gestirlo meglio, però ripeto, va sottolineato soprattutto la grande reazione mentale e di squadra che abbiamo messo in campo oggi. Luca Vitale, che aveva supporto, dice mister complimenti per la prestazione e per la vittoria, peccato per quei 10 minuti finali, anche Vitale, poi dice difese da reinventare domenica senza trossi, senza buschiazzo. Ma in questo momento ci godiamo una vittoria molto importante e poi da domani inizieremo a pensare alla prossima partita. Mano del senatore, il riso online, le chiede il periodo difficile per gli attaccanti, questa strenità offensiva come può essere risolta mister? Perseverando giorno dopo giorno, con umiltà, con voglia di migliorarsi, cercare sempre di arrivare dentro l'aria con tantissimi uomini e alla fine il gol arriverà per tutti. Orlando Savarese dice mister serviva una vittoria per la Cavesa in terra sarda, vittoria che ci sta perché avremmo voluto però segnare anche nel primo tempo. Sì, ripeto, soprattutto nella prima parte di gara è stata fatta una prestazione importante, un'altra cosa che mi fa molto piacere è che dopo tantissimo tempo siamo riusciti a fare gollo sul calcio piazzato, cosa che noi proviamo spesso e quindi anche questa cosa è andata bene. Dobbiamo festeggiare tra virgolette questi tre punti, domani risettiamo e poi ripartiamo. Mister dice Armenante di Mondo Blu Fonsè, oggi 100, più di 100 tifosi al seguito per gli aguilotti, quando sono stati importanti nello scatto mentale prima della gara, vedere comunque tanti tifosi giungere qui a tantissimi chilometri da Cava di Tirene? Io li ringrazio a nome di tutti, lo faccio con serietà perché sono veramente meravigliosi, sono un valore aggiunto e danno una spinta incredibile a tutti noi. Ok, grazie Mister. Grazie a voi.